macchina guarda Viene spontaneo? Eh, 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 no... Dai, Adri! Oh, mano solo a due, a due, a qua dopo che fanno fuori, dai! Sì, 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 sì. Sì, è inutile, non è pagare la rete, deve tirare fuori in seguito. Sì, è inutile, non è pagare la rete. 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 Io ti dico di no, io ti dico di no, però io sono contento per lui se passa. Sì, è inutile, non è pagare la rete. Grazie.